Grazie a tutti. Non c'è. Luca Ciccola. Micro. Non c'è. Luca Venditti. Forza Luca. Buono Venditti. la mia parrocchia di dare due ruolo è certo è gioco giolli Matteo Lochebelli Diego Conforto Matteo Lochebelli Matteo Lochebelli e allora porta a siga lui e non lo fate grazie a te quando viene ciao Marco Bressan